Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siccome sono un po' di giorni che stampo cose in 3D, vi faccio vedere 3 o 4 cosette che ho stampato e su ognuna di queste 4 cose vi parlerò di alcuni errori che ho fatto durante la stampa e vi mostrerò anche il programma, cioè Cura, il programma che sto utilizzando per stampare perché con questo piccolo video cercherò di evitare anche a voi di commettere gli stessi errori che ho commesso io visto che ero completamente estraneo, nuovo in questo mondo, per cui grazie a consigli vari tra cui il mio amico Giovanni che mi ha consigliato molto bene per eseguire delle stampe soprattutto più corte e con le giuste caratteristiche tecniche vorrei dirvi la stessa cosa in modo tale da evitarvi errori nelle vostre stampe Allora, vi parlo come prima cosa del fantastico cane che sicuramente già avete visto in uno dei video precedenti però questo qui è in assoluto la prima cosa che ho stampato, o meglio, non è la prima cosa che ho stampato perché la prima volta che l'ho stampato è venuto male e anche la seconda volta perché avevo dei problemi a far inserire il filamento nel modo giusto ma quando c'è un pezzo, diciamo, tutto intero, monoblocco, che non ha parti sporgenti fare una stampa senza errori è relativamente semplice o meglio, l'oggetto viene posizionato in questo modo dal software che lo praticamente crea il file analizza l'oggetto, diciamo, e crea il file da inviare sulla SD card che si mette nella vostra stampante perché, non so se lo sapete, ma potete stampare sia mettendo il file nella SD card o via USB però via USB succede che poi il computer non lo potete spegnere invece è molto meglio mettere il file di stampa dentro una SD card così spegnete il computer e lasciate la stampante che lavora tutta la notte allora, poi ho stampato questo bellissimo Baby Yoda allora, questo Baby Yoda mi ha fatto, diciamo, capire una cosa molto importante anche perché me l'hanno spiegata poi bene inizialmente io ho stampato questo personaggio in questo modo, dritto, in verticale in verticale significa che praticamente la stampante ha bisogno di supporti per sorreggere le orecchie, le braccia e comunque le parti sporgenti perché la stampante inizia dal basso quando la testina, la parte con l'estrusore, diciamo, da dove esce il PLA fuso parte dal basso, per cui man mano che sale quando poi arriva in questo punto qui dove c'è la mano se sotto non gli avete creato un supporto il PLA cadrà sul piatto della stampante non facendovi il braccio quindi, mi è stato suggerito sempre dal mio amico Giovanni di mettere l'oggetto in diagonale mettendolo in diagonale tramite il programma Altimaker Cura mettendolo in diagonale e dicendo al programma di creare dei supporti sotto di esso praticamente non solo ci ho messo molto di meno ma è venuta una stampa pressappoco perfetta perché praticamente si crea praticamente un fondo sul quale si fa attaccare bene il PLA quello della stampa vera e subito viene si iniziano a creare dei supporti che crescono insieme vengono formati insieme alla stampa stessa per cui voi vi ritroverete alla fine un bloccone che dovrete staccare fisicamente con delle pinze o con un taglierino dall'oggetto che avete stampato poi per divertirmi ho stampato una cover, una custodia per il mio iPhone e è venuta anche abbastanza bene l'unica cosa è che proprio il progetto di stampa probabilmente era qualche millimetro più grande del dovuto perché infatti il telefono non rimane molto stabile all'interno diciamo che questa è una stampa molto semplice perché non avendo nessuna parte sporgente è stata predisposta per essere stampata sul piatto di stampa in questo modo e così è stata fatta diciamo non ci sono stati errori su questa stampa mentre un'altra cosa che ho stampato è questo bellissimo Minion che tra l'altro è venuto anche molto bene ma qui ho commesso un altro errore perché questo qui l'ho stampato in orizzontale stampandolo in orizzontale praticamente si è creato tutto un supporto sotto per reggere le braccia e le parti sporgenti come i piedi ad esempio che sono più alti rispetto al corpo si è creato un supporto talmente grande che praticamente una volta staccato l'oggetto diciamo dal fondo di stampa ha lasciato tutto il retro molto rovinato quindi ho dovuto carteggiarlo ho dovuto usare un Dremel per pulirlo con il risultato che di base si è un po' rovinato se invece lo avessi stampato in verticale dicendogli però di creare i supporti sono sicuro che sarebbe venuto molto molto meglio allora facciamo un rapido salto sul programma Ultimaker Cura così vi faccio vedere al volo perché ancora pure io sono insomma abbastanza nuovo in questo ambiente quindi non conosco molto queste cose però quello che ho imparato secondo me è sufficiente per fare un'ottima stampa di un oggetto già pronto ovviamente con questo non farete nessuna modellazione nessun disegno ci limiteremo a stampare una cosa già pronta per cui vi faccio vedere al volo quelle che sono le impostazioni che sto usando in questi giorni ok allora questo è il nostro software Ultimaker Cura per cui se io vado ad aprire ad esempio un file STL ad esempio vi mostro il file di Baby Yoda perché è quello che mi ha dato maggiori problemi all'inizio vi faccio vedere come dovete impostarlo praticamente per avere diciamo una stampa corretta allora quando caricate il file qui dentro all'interno perché questo praticamente va a simulare quello che è il piatto della vostra stampante avete il vostro oggetto in questo modo allora questi assi queste frecce diciamo tramite queste frecce voi potete andare a muovere il vostro oggetto sul piano di stampa però per poterlo mettere in diagonale come vi ho detto poco fa dobbiamo utilizzare questo comando qui allora utilizzando questo comando noi possiamo andare a fare questo lavoro e possiamo chiaramente spostarlo come più ci pare un altro errore che ho fatto è che praticamente non ho controllato come avevo impostato il file tramite queste voci qui sotto se voi vedete con questi qui possiamo vedere che adesso il file è giusto perché praticamente non tocca il pavimento o meglio è a zero io all'inizio quando l'ho stampato la prima volta stava così più o meno come potete vedere è questa parte qui è sotto il livello dello zero per cui la stampa è iniziata da qua e ho dovuto rifarlo perché praticamente è iniziata una stampa che mi ha fatto mangiare tutto questo pezzo qui sotto per cui dovete fare attenzione a tenerlo in questo modo qui cioè sullo zero detto ciò una volta che avete posizionato il vostro oggetto come più vi piace andate a premere qui su sezionamento sezionamento non va a fare altro che creare tutto il processo di stampa per creare un file da mettere nella vostra stampante questo è un processo che richiede qualche istante perché appunto sta creando dei supporti da mettere qui sotto in modo tale che voi non stamperete solo questo ma stamperete questo oggetto qui con i supporti sotto per sorreggerlo adesso appena è pronto praticamente ve li mostrerò così vi rendete conto di cosa realmente stamperete perché molta gente si pensa di stampare direttamente questo o meglio anche io pensavo di stampare solo questo ok adesso che è finito se noi andiamo su anteprima l'anteprima ci va a mostrare questo per cui voi andrete a stampare questo praticamente la puntina la duse diciamo comincerà a scrivere questa base qui facendo diversi strati e poi prima di arrivare fisicamente a creare baby Yoda creerà questo supporto qui solo quando arriverà sopra il supporto inizierà a scrivere a creare diciamo la base e ovviamente da subito inizierà a creare anche questo di supporto che servirà per reggere questa mano qui questa mano qui e le orecchie senza di questi quando la testina passerà se noi non gli diciamo di creare i supporti quando arriviamo in questo punto qui il PLA fuso colerà semplicemente per terra allora molto rapidamente vi mostro quelli che sono i miei parametri attuali di stampa quindi qui in alto a destra se noi andiamo a cliccare qui sopra si apre appunto questo pannello con diversi fattori ovvero diversi parametri quello che è più importante è che noi andando a scendere giù allora il livello di riempimento la densità di riempimento all'inizio era impostata a 90 cioè praticamente veniva un sasso giustamente non dobbiamo fare un oggetto che pesa un chilo per cui basta impostare 15% questo è molto importante perché se no la stampa vi dura due giorni questa pure a livello di millimetri è la distanza tra le linee di riempimento 2,666 praticamente sono molto è decisamente valido come parametro qui ho toccato ben poco perché la velocità di stampa significa che sono 60 mm al secondo secondo me va più che bene raffreddamento e poi ecco i supporti questa è una cosa che all'inizio non avevo impostato per cui non mi veniva quasi nessuna stampa noi dobbiamo impostare generazione supporto dobbiamo mettere sì e poi praticamente gli andiamo a dire che dobbiamo creare dei triangoli come configurazione del supporto un'altra cosa che volevo dirvi è che praticamente l'adesione al piano di stampa ovvero la primissima cosa che stampa dovete mettere il raft che è in assoluto il migliore perché se noi andiamo a leggere quello che c'è scritto vediamo che il raft aggiunge un fitto reticolato con un tetto al di sotto del modello praticamente questo è il metodo migliore per far attaccare perfettamente i vostri modelli al piatto di stampa ok quindi come vi ho detto era appunto un brevissimo tutorial chiamiamolo così per fare le prime stampe in autonomia spero che vi sia stato molto utile e che vi aiuti magari a non commettere gli stessi errori che ho fatto io se questo video vi è piaciuto vi chiedo il solito pollice in su vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao